Questo sindaco è riuscito a prendere un terzo delle risorse che la regione ha messo a disposizione per il dragaggio per i sei porti della regione Marche. E allora questo non è che uscisse esso per caso, è perché questo signore qua ci ha messo del suo. La politica ha fatto tutto quello che doveva fare, ha detto il sindaco di Fano Massimo Seri, intervenuto sulle barche bloccate al porto di Fano. È un'emergenza che continua e che necessita di un dragaggio importante e affinché questo avvenga si rivolgerà nuovamente al presidente della regione Luca Ceriscioli. Anche 20 giorni fa ero insieme all'autorità portuale che ieri mi ha firmato la lettera dove accetta, dà la possibilità di sversare in mare giù al porto di Ancona. Ci siamo incontrati anche con i tecnici della regione, del CNR, perché non dobbiamo dimenticare purtroppo che quando ci sono questioni ambientali le procedure sono lunghissime. La gente dà tutto per scontato. È stato eseguito un mini dragaggio, ha ricordato il primo cittadino, ma ogni qualvolta c'è maltempo con i fanghi che arrivano dal canale si ripresenta lo stesso problema. Ho fatto un piano di dragaggio che dovrebbe vedere un dragaggio di circa 50.000 metri cubi, cosa che non si è mai fatta in questa città e questo può avvenire soltanto nel mese di settembre, fine mese di settembre.